segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ma così il mancato incontro ieri tra il presidente sanato la russa e appunto come sentivamo prima le parole di sami modiano la russa ha detto ho preferito sottrarmi a questo incontro per non politicizzarlo sì questa è una scelta del presidente la russa che che voleva evitare che si dicesse guarda la russa si fa bello per farsi il selfie no magari non letteralmente con sami modiano ma il presidente del senato è la russa e il sami modiano è venuto perché la russa l'ha invitato ieri tra l'altro c'è stata la commemorazione al senato io devo mi preme sottolineare una cosa gli interventi c'è stato un intervento per gruppo e io ho apprezzato veramente sinceramente tutti gli interventi dei gruppi perché non c'è perché c'è stato veramente la volontà di ricordare questo giorno e non di mettere la la bandierina colorando con le istanze di ciascuno ciascuno al suo partito questa questa giornata ieri era presente naturalmente presideva il presidente la russa ed era presente l'ambasciatore di israele il presidente del la presidente noi mi disegni la presidente della unione delle comunità ebraiche in italia la presidente della comunità ebraica di roma rud dureghello l'ex presidente riccardo pacifici rappresentanti anche dal dall'estero insomma direi che non c'è e naturalmente poi sono stati incontrati dal presidente la russa ma sulla questione di sami modiano le cose sono andate senza però appunto la cosa necessariamente fare la foto la foto opportunity in questo caso quando viene un personaggio come sami modiano con il suo portato di della sua vita bisogna dare spazio a lui e evitare la russa voluto evitare che lo spazio fosse dato alla russa tirando fuori qualche cosa su di lui il punto era la giornata in cui ascoltare sami modiano e questo è stato l'obiettivo diamo senatore scalfarotto condivide questa ma